Le start-up innovative e il loro sviluppo è stato il tema del convegno che si è tenuto a Palazzo Lascaris su iniziativa dell'associazione culturale IdeaTOP. Nel corso dell'incontro si è analizzata la situazione delle imprese innovative in Piemonte e del loro impatto sull'economia. Tra gli interventi, il presidente della Commissione Attività Produttive ha annunciato una nuova proposta di legge in finanziaria sul tema dopo l'impugnativa del governo della precedente norma sullo sgravio IRAP.